Le galline covano sovente in convento. Le galline covano... Bravissima! Sovincone! No! Lei non ha mai saputo stringere dei rapporti con gli altri. Quando era piccola era sempre tutta sola. Sotto le finestre di una Parigi schiantata dal dolore, milioni di persone in lutto si stringono lungo il corteo funebre, a testimonianza silenziosa del loro incommensurabile dolore di sentirsi ormai orfani. Strano il destino di questa giovane donna. Pronto? Ah, sì. Eh, signore? Signore col... signore col sacchetto di plastica, è per lei. Per me? Sì. Grazie. Pronto? Seguo le frecce blu, signor Kenka. Signore, se il dito indica il cielo, l'imbecille guarda il dito. Pronto? Pronto? Ma chi è lo sconosciuto delle foto, signor Cancapois? È un fantasma. Nessuno lo può vedere, signor Cancapois. Compare solo sulla superficie sensibile della pellicola fotografica. Quando una ragazza si siede su uno sgabbello, lui si avvicina al suo orecchio e fa... Carezzandole dolcemente la nuca. È allora che si fa scoprire, signor Cancapois. Lei? Lei chi è? Pagina 51. Beh, loro in ogni caso ce l'hanno fatta. Sono morti da molto tempo, ma non precipiteranno mai nell'oblio. La ragazza col bicchiere d'acqua? Sì? Se sta un po' di lato è forse perché sta pensando a qualcuno. Ah, qualcuno del quadro? No, piuttosto un ragazzo incontrato altrove. Ma lei ha l'impressione di essere un po' simile a lui. Ah, in altri termini preferisci immaginare un rapporto con qualcuno che non c'è, piuttosto che creare un legame con quelli che sono lì con lei. Magari è il contrario, si fa in quattro per risolvere i pasticci della vita degli altri. Sì, ma lei? Dei pasticci della sua vita? Chi è che se ne occupa? Chi è che se ne occupa?